Il primo gelato, assaggia, dimmi come si gode è il primo gelato che ti diamo per dati questo gelato abbiamo rinunciato a 20 grammi di pane e abbiamo rinunciato al frutto e la minestrina invece di 50 grammi, 40 grammi va bene? e questo è un gelatino valsoglia che era un pochettino con meno carboidrati rispetto agli altri è buonissimo allora Alessandro questo diabete non vuol dire non mangiare il gelato basta semplicemente far quadrare i conti e togli andrei da qualche altra parte è stato bravo papà? oggi i valori erano buoni abbiamo fatto tutto quanto per bene tutte le cose fatte per bene e guarda che gelatino grande come sta? chiede pollici in su mettete pollici in su e spiegate